Salve a tutti ragazzi qui è un nuovo tutorial di Spintires 2014 installazione di mod Qui siamo alla mod di mappe ad alta risoluzione Come potete vedere le mappe non sono nuove, sono uguali però sono ad alta risoluzione Quindi per rendere il gioco ancora più difficile e saper tracciare il corso Quindi ci saranno, penso, suppongo che ci saranno ancora altre più zone, molte più zone occultate Più piccole o magari più grandi Questo dovrete vederlo, lo vedrò anche io, proverò a vedere Però non sarà cambiato di molto Comunque dovete andare qua sotto, ancora il link in descrizione Dovete cliccare questa freccettina, verrà scaricato col browser La procedura è la stessa dell'altro video Cioè aprite, vi faccio vedere con un pacchettino, con un altro pacchetto Vi faccio vedere con questo pacchettino che è quello che è servito per un altro tutorial Fate fin da che questo sia il pacchetto delle mappe ad alta risoluzione Lo aprite con Winrar Ci sarà dentro una cartella media che dovrete estrarre La estrate nel desktop, come vedete Questa cartella la aprite Ci saranno dentro delle cartelle che non sono uguali a queste O sono pressa poco uguali, dipende del caso Andate in computer Disco locale C Programmi x86 Spin Tires Media Ci saranno già delle altre cartelle, se avrete modificato, aggiunto mod Potete le selezionate Però non sono queste, queste sono le cartelle di prima Le spostate nella cartella media del gioco Della diretta del gioco Fate sostituisci E continua E le incollate Bene, come potete vedere La procedura per metterle mappe sarà uguale come ho fatto a questa qua Questa qui invece sono le modifiche per il camioncino Bene, spero che vi piaccia questo video Non dovrebbe cambiare molto come ho già detto prima Quindi Do a voi la prova di verificare eventuali cambiamenti Bene, per questo è tutto Io vi saluto E ci vediamo al prossimo video